Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video vi mostrerò una seconda sfida segreta in Fortnite introdotta con l'aggiornamento di oggi e riguardante sempre l'ignomi. Dovete entrare in questo edificio, questo vicino, la foresta frignante, non potete sbagliarvi. Quindi atterrate in questo edificio e dovete raggiungere una stanza che adesso vi mostro dove ci sono gli ignomi ad aspettarvi e di conseguenza la sfida. Quindi atterrate qua dove c'è anche questo punto di interesse vicino alla foresta frignante, atterrate qui, entrate qua, girate, aprite questa porta, scendete, aprite questo e voilà la sfida è completata.